Sembrava quasi impossibile avviare la stagione sciistica a Campocatino, invece qualcosa si è mosso. È attesa per oggi infatti la firma del protocollo d'intesa tra le parti. Il sindaco di Guarcino, Urbano Restante, è riuscito a limiti a scongiurare la chiusura dei campi sciistici. Dopo la gara pubblica, andata deserta qualche mese fa, anche le speranze riposte dal comune nella procedura di affidamento diretto, a titolo gratuito tra l'altro degli impianti, non ha riscosso interesse da parte dei privati contattati. Invece è di poche ore fa la buona notizia. La gestione dei 12 chilometri di piste del comprensorio sarà affidata alla SDC Club Madonna del Montepiglio, con la collaborazione economico-finanziaria del comune. Una soluzione provvisoria in attesa della gara per le prossime stagioni, che appalterà la gestione per i 10 o 15 anni successivi al miglior offerente. Il primo cittadino è sollevato da come sono andate le cose. Sono contento di aver trovato una soluzione e non posso non ringraziare la SD Madonna del Monte, che ci darà una mano in questo anno di transizione. Penso anche che non sarebbe dovuto toccare a loro, ma ai nostri operatori economici. Albergatori, baristi e tanti altri sarebbero potuti intervenire. Soddisfatto anche il presidente della SD, Marco Ceccaroni, il motivo che ci ha spinto ad intervenire è il profondo affetto che ci lega a questa stazione, dove abbiamo potuto svolgere al meglio le nostre attività. Per noi essere protagonisti è un onore. Vi promettiamo tante novità, conclude Ceccaroni.